Le scuole di Messina, lei le ha, come dire, le ha messe sotto i riflettori, qualcuna l'ha chiusa, c'è stato pure un avviso di garanzia, c'è un'inchiesta della magistratura ancora in corso, sono a prova d'incendio? No, purtroppo bisogna dire che anche quell'esempio della fotocopiatrice che c'è stato ha dimostrato che non è un discorso, voglio dire, astratto, cioè tu devi fare in modo di controllare tutti gli impianti per verificare se tutti gli impianti elettrici sono a norma, devi fare in certi casi il certificato di protezione incendi e non tutti ce l'hanno, le scuole, e dovrebbero averlo, almeno le scuole sì. Dovrebbero averlo perché non c'è stata più la prova, è stata data una serie di prova e adesso non è stato prorogato. Quindi dovrebbero averlo? Dovrebbero averlo e quindi voglio dire... E quindi a ricordo di logica dovrebbero andare chiuse? No, 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 diciamo le cose, io lo giornalistico per fare senza azionalismo non è opportuno. Eh, però i nostri bambini devono stare su te. Sì, però dobbiamo essere molto pragmatici. Allora, abbiamo ritenuto qualche tempo fa di aprire, di accendere i riflettori sul pianeta scuola. Io, infatti, secondo me è importante. La sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza sulle scuole non riguarda tutto l'aspetto strutturale, perché anche qua si è un po' polemizzato sul fatto sì, no, molti degli incidenti che accadono nelle scuole riguardano la caduta dell'intonaco, il controsoffitto, tante piccole cose... Che potrebbero riguardare gli incendi. Che potrebbero riguardare anche gli incendi. Allora noi dobbiamo pensare che la scuola in sé è un luogo che va attenzionato al di là dell'aspetto, diciamo, normativo. Va attenzionato perché intanto ci vanno i nostri figli, intanto perché è un luogo che in caso di terremoto dovrebbe essere luogo di ammassamento ai fini della protezione civile. Quindi ha bisogno di un'attenzione maggiore, come l'ospedale, come le caserne, se sono antisistiche. Quindi fare, infatti, avere il comune di Messina, 120 plessi scolastici, è un patrimonio, parlo per le scuole di competenza comunale, significa avere un patrimonio immobiliare enorme che noi abbiamo l'obbligo di valorizzare, anche ai fini architettonici. Infatti quando io disse allora al sindaco di fare un pool di architetti, geologi, geometri... Lo ha fatto? Non l'ha fatto. Perché? Perché non basta dire, ah, non abbiamo degli strumenti, non abbiamo i soldi, non abbiamo il personale, un attimo, ma rapportati con gli ordini professionali. Creiamo anche, diciamo, un effetto positivo ai fini, diciamo, lavoristici, perché diamo la possibilità sulle scuole di verificare lo stato di sicurezza, lo stato di salute, l'abbiamo chiamato così, stato di salute delle scuole. Grazie, grazie, ingegnere Sciacca.